Ultimi preparativi in vista dell'inizio del nuovo anno accademico dei corsi di cultura di Chiavari, il 38esimo, che inizierà il 2 ottobre e proseguirà fino a fine maggio con un ricco programma. Più di 90 conferenze, sia con un legame alla storia locale e fatti del territorio, sia con una prospettiva più ampia. Cinema, letteratura, storia, filosofia, scienza, economia, diritto, solo per citarne alcune. Una novità di quest'anno sono alcune lezioni teoriche sulla mindfulness. Non solo hanno lo scopo di alimentare nelle persone di tutte le età, ma in particolare in quelle più mature, il desiderio di conoscere, di essere sempre aggiornati e anche di vivere personalmente la cultura, ma anche lo scopo di creare un ambiente sociale, dinamico, un ambiente di comunità, sempre aperto perché la nostra associazione vuole non essere un'associazione chiusa, ma un'associazione aperta al territorio. Ci sono poi quattro eventi di interesse pubblico, il premio Donna Città di Chiavari, un evento sulla violenza di genere, uno sulla sanità locale e un incontro in memoria dell'artista Bettina De Filla. L'inaugurazione dell'anno accademico è in programma lunedì 2 ottobre all'auditorium dei Filippini di Chiavari con la fotografa Alessandra Pratelli. Avremo la presentazione di un suo racconto fotografico, per cui già ha ricevuto dei premi, declinato in direzione anche della conoscenza, del rispetto della natura, dell'ambiente, e quindi anche con un carattere ambientalistico nel senso più ampio del termine. Oltre alle conferenze ci sono poi i consueti corsi di lingua che si svolgono in via delle vecchie mura, lezioni in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Sia per principianti sia di secondo livello, intermediate o avanzato a seconda dei casi.